Ricevere premi, insomma, lei tante volte nella sua carriera, insomma, l'ha detto che comunque che è competitivo, che comunque il cinema per lei è anche comunque ottenere dei riconoscimenti, per cui un premio fa sempre piacere, no? Un premio fa sempre piacere e devo dirti, confessarti con tanta sincerità, che non c'è una gerarchia nei premi. Cioè, qualunque premio esso sia, dal Festival delle Cerase alla Palma d'Oro a Cannes, che non ho mai vinto, mentre il Festival delle Cerase l'ho vinto 4-5 volte. Ecco, tuttavia hanno, per quello che c'è dietro, per chi ha pensato a te, senza che tu lo sapessi, per chi ti ha considerato meritevole di ricevere un riconoscimento per il lavoro che hai fatto, va rispettato. Io so che molti miei colleghi hanno invece delle gerarchie, delle classifiche, questo sì, questo no, questo non ci vada, questo ci vada. Io devo dire che se a Piazza Colla di Renzo, 69, secondo piano, c'è l'ascensore comunque, tu entri nel mio studio e vedi la marea di premi mescolati, quelli che contano agli occhi del mondo e quelli che forse contano soltanto effettivamente, c'è la mia vita, c'è la mia vita, c'è il fatto che io ho sempre detto di sì e sempre grazie, ho sempre guardato la leggenda, ho chiesto a mia gente, siamo liberi quel giorno, sì, allora andiamo, andiamoci. Molti dicono che comunque la carità di un artista e poi anche di un uomo ovviamente sia fatta di incontri, è quello che gli dà ancora tanta voglia di continuare, insomma, come sta facendo sempre di più, a fare cinema, a raccontare storie, perché i nuovi incontri gli danno, come dire, un ulteriore piacere? Ma vedi, quando ti trovi a doverti confrontare con una storia nuova, con un cast nuovo, ma anche con la stessa truppa, anche con lo stesso cast, comunque la storia stessa fa sì che sia un nuovo mestiere, cioè tutte le volte io praticamente dico, io ho sempre fatto delle opere prime, perché tutte le volte mi sono messo nella condizione di non sapere se avrei saputo in realtà raccontare quel tipo di storia, se avrei saputo in realtà creare quell'emozione che mi auguravo di saper creare, se avrei saputo far ridere, se avrei saputo far piangere, se avessi ottenuto quelli che sono le relazioni primarie del pubblico. E qui mai è venuta voglia di vedere attraverso la storia di un vecchio film la curiosità di sapere cosa è successo nel frattempo a quel personaggio che ha abbandonato dopo la scritta fine, magari di raccontarlo di nuovo, magari di raccontarselo di nuovo? Ma vedi, è un rapporto col film che ho alle spalle un po' complicato, perché i film con le spalle assomigliano a quello che sono stato, ma non assomigliano più a quello che sono, perché nel frattempo, non voglio dire che sono migliorato, perché sicuramente sono peggiorato in tutti i sensi, soprattutto fisicamente, il fisico diventa recalcitrante, soprattutto quando arrivi alla mia età, tuttavia il fatto di vedere questi film come qualcosa che appartengono a una moda di un giorno, di un tempo, pantaloni, zampa d'elefante, le basettone, l'imprimeo di plastico, non lo so, quella roba là, ecco fa sì che io viva una sorta di disagio, anche nei riguardi dei film pochissimi, pochissimi, che però hanno fatto sì che, insomma, io in qualche modo sia notato e ricordato, anche quelli, in qualche modo, preferisco pensare continuamente, essere proiettato continuamente nel film che farò. Guardandosi il Toro, tante cose sono cambiate nei suoi decenni di carriera, cos'è che è rimasto invece immutabile per chi come lei appunto vive di cinema, vive di storia da così tanto tempo? L'emozione, l'emozione che vivi nel momento in cui è la sensazione battendo su quella tastiera da solo nella tua stanza con un disco di Red Garland e dici, amma, questa scena, cacchio, questa scena è fantastica, mi emoziona, mi fa venire i brividi, la mattina dopo la rileggi e funziona ancora. Ecco, se tu riesci a tenere quell'emozione di portarla tre mesi, quattro mesi, certe volte con Casa Finestra, per esempio un film che ho fatto tanti anni fa, intercorsero sei anni fra il momento in cui scrivessi il copione e il momento in cui lo riservai, quindi dobbiamo tenerlo dentro veramente al caldo, dentro, poi finalmente lo partorisci. Ecco, e se riesci a mantenere, a restituire, a condividere quell'emozione, al punto che ricevi quei messaggi che incominciano e sono i più belli, anch'io. Tutti i messaggi che ricevi, che incominciano con, caro Pupi, anch'io, ecco già lì, ti senti in un contesto, in un mondo più rassicurante, che ti assomiglia molto.